Amici di Pistaglia Sport siamo al Bennati di Quarrata a margine della presentazione dell'Olimpia col mister della prima squadra Cristian Bonaviri a cui chiediamo come ha visto la squadra in questi allenamenti e anche un piccolo commento sulla partita di domenica vinta con l'atletico Casini Spedalino. Tanto buonasera, la squadra risponde bene alle sollecitazioni che gli do ben messa in campo, domenica si è fatta una buona prestazione siamo secondo me bene sia fisicamente che anche mentalmente partita combattuta, loro un'ottima formazione e secondo me lotterà per le prime posizioni del campionato decisa da un gol di Franceschini su una palla in verticale poi dopo siamo rimasti in dieci l'ultimo quarto d'ora e hanno provato a sfondare centralmente ma abbiamo retto bene anche in quel frangente lì, anche a livello mentale e non siamo mai usciti dalla partita. Per quanto riguarda la stagione quali obiettivi possono esserci? Obiettivo primario è si cerca di una salvezza diretta senza soffrire tanto ma nel contempo anche senza nasconderci se si dovesse creare l'occasione di poter guardare a qualche posizioncina su. Un'ultimissima battuta, la squadra è deciso bene al cambio di campo visto che quest'anno voi giocherete al Barni di Montale? Sì, anche perché insieme alla società e allo staff abbiamo deciso di spostarci lì in virtù dell'indisponibilità del nostro soprattutto per quanto riguarda le misure e similitudini al nostro campo di gioco che non ci eviterebbe di adeguarci ogni settimana a campi di allenamento e campo di gioco diversi. Ecco, ma ringrazio mister, ci risentiamo per eventuali partite durante la stagione e ovviamente in bocca al luco. Crepi. Grazie mille mister. Grazie.